Un epilogo incredibile. Il Teramo si fa rimontare due reti dall'Assemblea Nettese negli ultimi 5 minuti, dopo aver segnato un gran gol con De Grazia e aver controllato senza troppi affanni le sfuriate dei padroni di casa. Per l'Assemblea Nettese il ribaltone è arrivato dalla panchina, sono entrati Stanco e Miceli che hanno firmato il sorpasso. Serata dunque davvero amara per il Teramo e per i 500 tifosi arrivati alla Riviera delle Palme. Ancora assente nel Teramo Speranza, debutta a Sparacello, nella tandem d'attacco con Zecca, Maurizzi conferma il 3-5-2 inserendo Spighi al posto di Ventola. Speculare il sistema di gioco del trainer Roselli. Manca l'ex Ilari, indisponibile, ma c'è Cecchini. La Samb si affida in avanti alla coppia Calderini di Massimo. Primo tempo da sbadigli, ben controllato dal Teramo a centrocampo, ottima la prova di proietti. L'unico squillo al 38esimo è della Samb con Calderini che costringe alla superparata Lewandowski. Da segnalare un cartellino giallo a Persia che, già diffidato, salterà l'infrasettimanale di martedì sera al Bonolis contro Limolese che nel pomeriggio ha travolto 5-0 la Gianerminio. Ripresa di tutt'altro tenore dentro Gelonese nella Samb al posto di Caccetta in grossa difficoltà a centrocampo, soprattutto nel duello con proietti. Terzo minuto, Samb nel tese pericolosa con Calderini che può tirare ma Lewandowski è attento e respinge. Il Teramo risponde al sesto con una conclusione velenosa di De Grazia che colpisce il palo esterno alla sinistra di Pegorin. Ribaltamento di fronte e Samb con Di Massimo, per poco non c'entra il bersaglio grosso, la gara si accende. Diciottesimo, la squadra di Maurizzi in area marchigiana, traversone su cui colpisce di testa Persia, sfera zecca che conclude ma ci mette una pezza a Biondi deviando in calcio d'angolo. Al ventiquattresimo il Teramo passa, Sparacello difende bene palla suggerendo per De Grazia che si invola sulla sinistra e appena dentro l'area lascia partire un fendente che fa secco Pegorin. Un gran gol del numero 10 Biancorosso al quinto centro stagionale. Alla mezz'ora cambio Teramo, esce l'autore del gol De Grazia e fa il suo esordio il neoacquisto Giorgi. Al trentaseiesimo annullata una rete al biancorosso zecca, la palla probabilmente era uscita sul traversone basso di Mantini, anche lui subentrato al posto di Spighi. A sede al termine il pari della San Benedettese era Pisarda per Russotto, cross basso sul pallone si avventa stanco che da pochi passi mette dentro, esplode il Riviera. Ultimi minuti concitatissimi, nel Teramo esce zecca per Barbuti e un minuto dopo arriva la beffa ma anche la colpevole disattenzione difensiva biancorossa. Fallo laterale per il Teramo la mancano in due, Miceli libero in piena area, si può coordinare e in rovesciata zecca l'angolino dove Lewandowski non può proprio arrivare. Un gol bellissimo ma biancorossi nell'occasione in bambola. Il Teramo non si arrende, si getta in avanti e in pieno recupero sfiora il 2-2. Barbuti imbeccato da Cegli alla palla buona ma sul tiro a botta sicura c'è Rapisarda che salva tutto. Al Riviera delle Palme San Benedettese batte Teramo 2-1.